Descrivere la donna fei vuol dire descrivere una donna assolutamente normale ma con un certo fascino, il fascino di una persona che comunque è attenta a qualsiasi dettaglio. È una donna che comunque fa uso della moda a tutti gli effetti ed è quello che noi vorremmo fare, cioè portare fei anche a un concetto di moda di uso. A livello stilistico il nostro obiettivo è di far sì che la donna che interpretava fei, la donna comune, la consumatrice che nel negozio comprava più o meno una giacca fei sportiva, si approccia al marchio anche come total look con delle maglie, delle gonne, dei pantaloni, cioè come modo di vivere in una maniera rilassata, sportiva ma nello stesso tempo con un occhio alla moda, anche una moda molto spinta. Creare un mito è molto facile, vestire una donna quotidianamente è una cosa molto complessa.